Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dio Fratelli e oggi siamo qui in compagnia di mia cucina Martina Ciao ragazzi Da come avete letto dal titolo, in questo video andremo a provare delle cose bellissime, buonissime e blu 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 che sinceramente non ho mai provato e proveremo insieme a lei in questo video Abbiamo preso cose americane miste a cose giapponesi, no a cose italiane, vabbè abbiamo preso cose, la prima cosa è l'unica cosa salata di questo video, c'è questo, queste qui Che sono delle tortillas, le tortillas che vanno mangiate con della salsa di avocado ma io non l'ho trovata, quindi mangeremo solo queste, le mettiamo qua, poi come da bere, abbiamo tre cose da bere La prima, che appena l'ho vista, la volevo subito prendere, che non l'ho mai provata, è questa, coca cola, metti a fuoco? Sì, energy Metti dietro di me, metti dietro di me Metti dietro di me Ha messo a fuoco? Vabbè si vede no? Sì Energy, coca cola, energy Energy? Sì E anche con frutta, con la frutta dentro Tipo il frutto della passione A banana Poi questo coso Ecco, questo, vabbè, dovrebbe essere buono Poi c'è il pezzo forte, anzi ve lo faccio vedere dopo C'è questo, che è da bere Che è una bibita che ho consigliato io a Flavio, anche se non l'abbiamo mai provata Ma la vogliamo provare Grazie a caso, questo video è così Dovrebbe essere, anzi è almeno grano È il tè almeno grano Spero che sia buono, perché se non è buono lo sbatto per te Poi abbiamo gli oreo ai brownie Abbiamo spaccati perché siamo cieli Gli oreo ai brownie che non ho mai provato E secondo me saranno buoni Poi se non sono buoni Amen E li mangi lo stesso Poi abbiamo preso le due cose più americane che esistono al mondo Il burro d'arachidi Fai vedere Messo a poco No? Vabbè, vabbè si vede lo stesso Poi c'è una cosa che appena l'ho vista C'è una cosa americana, proprio bellissima americana Che appena ho visto Che appena ho visto l'ho dovuta prendere per forza Il caffè di Starbucks Guardate Cioè è fighissimo Starbucks praticamente Se non sapete cos'è È una specie di negozio Tipo come McDonald's Però vende caffè Il caffè verde Il caffè verde Sono buonissimo Ma è buonissimo Faccio vedere Si vede? Si vede Penso di si No Ha un odore buonissimo tipo popcorn Ho preso pure tutto vabbè Siamo tipo popcorn Proviamo? Si Vai Sono molto secche Non mi piacciono Perché? Non c'hanno sapore Sembra carta Non beh le tortillas come dovrebbero essere Se volete comprarle Non compratele Fanno schifo Fanno pena Sembra cartone Se dovete mangiarle Mangiatele con una salsa Pure la maionese Basta che coprite il sapore Perché sembra cartone Fa schifo Vero Che voto dai? Due Cinque Fa schifo Adesso passiamo alla prima bibita Io partirei da questa Da questa a questa Questa per ultimo Questa qua per ultimo Partiamo con il tè Come si apre? Two hours later Lo stesso attento fa Che puzza di merda Che buono Che puzza di merda Ma in medicina Ma in medicina No ma in medicina Ma fa schifo E qual è la monster Vediamo che colore è Non dire caviate È rosso Oh mio dio Basta basta È rosso È mio tre lo assaggiamo Uno No ma fa schifo No ma fa schifo Se metto il corretto è sciolto Uno Due Tre No ma fa schifo No ma è buona No ma è buona È medicina Lo sapevo Si sente Della rotura Che sembra la medicina O da me è buona No è medicina Fa schifo Non è medicina È quello Solo che è tipo La monster Dio dello smurto Che cacchio sta dicendo Adesso passiamo Il cioccolato Alla frutta Questo dovrebbe essere Come ho detto prima Il cioccolato bianco All'interno Qualcosa di fruttoso Sì Qualcosa di Di bellissimo Allora Apriamo Questo dovrebbe essere Buonissimo Oddio guardatelo Guardate Guardate È tipo un ripieno Di frutta Puoi sentire Aspetta È tipo bellissimo Da lontano Sembra un cioccolato Normalissimo Buono Cioccolato normalissimo Al latte Ma A bianco No al latte Eh vabbè Comunque Amico tre Aspetta Non abbiamo la di vuoto Alla bibita Io gli do Otto Io gli do Otto Sì Ma fa schifo È buona Io gli do Uno e mezzo E so Cioè No Zero Zero Ma perché Povera bibita Fa schifo Al mio tre Uno Due Tre Che male La normalissima cioccolata No Aspetta Quando Quando L'ingui Tipo un po' Sembra Ananas No Non è Ananas Allora Quando lo mastichi È cioccolato bianco Ma appena lo ingui Cioè appena Tocca il palo È un po' acido È È buona È buona È buonissima È buonissima È super figa Ma brava Cazzo c'è super figa 9 e mezzo Troppo buona Se dovete comprarla Mi raccomando Compratela Compratela Perché È buonissima Facciamo un sapore Passiamo Mamma mia Alla coca cola Alla coca cola Energy Ma vedete il colore Beh Coca cola normale Però è un po' più chiara Un po' più Vedete Fallo vedere tu È un po' più Più o meno Rossiccia No Guarda che cazzo Non è rosa Passiamo agli oreo brownie Questi qui dovrebbero essere praticamente Allo stesso gusto dei ringo Cioè i ringo con l'accioccolato Dovrebbero avere lo stesso gusto Esatto Secondo me saranno tutti un E leo Sono rotti questi Eccolo qua Voila Faccio dell'interno Già che ci siamo Guardate È marrone Ammio tre Uno Due Tre Tre È buono È buono Non è qualcosa di speciale Però È molto buono Otto e mezzo Otto e mezzo È molto buono Sei e mezzo Ti piace questo Ci piace questo E non ci piacciono i cosco Lo so ma non sono stata delusa Vabbè Adesso Posso far vedere? Proviamo Starbucks Questo qui sto morendo dalla voglia di provarlo E lo proviamo insieme perché è buonissimo Sarà buonissimo sicuro Caramello Guardate Vivo da qua Sembra merda Però non vi fate Non vi fate Vedete? Dai Tu bevi così Sembra buono L'odore è caramello Cioè è proprio Odore di caramello Vivo da qua Top Top Un altro po' così? Vabbè 3, 2, 1 Via Caramello Caffè al caramello Non tanto buono Però È buono È amaro No non è amaro Sì È caramello Cioè non è che Eh micchia Se è il caramello amaro Ma si sente caffè È caffè È normale che si sente caffè Mi sento la bocca tutta amara No questo mi ha deluso 4 A me piace molto Io gli do un 7 e mezzo Adesso passiamo al pezzo Fortissimo Non è questo? Questo Questo Non è l'altro Il cortello No guardate c'è raga C'è raga La perfezione Cioè io credo che sia Ha un odore buonissimo Ha un odore splendido La nocciola Dello sticker Le arachidi Le arachidi Cioè guardate Io la posso mangiare È buonissimo Guardate Vai senti il pane veloce Che mi dici se la sciaggiamo prima così Poi sul pane Ok Stai giungendo prima io Prima tu Perché tu sei la youtuber Vai Grazie Allora Perché a me l'ha fatto Che è buonissima È salata Io credo che era dolce Ma È splendida Cioè raga Sto volando Oh Sì Oh cazzo Oh sì Guardate Cioè È splendido La devo mettere tanto Grazie È splendido Vabbè A meno tre Uno Due Tre Allora Ci vogliono 32 anni Per masticare Per ingoiare Però È buonissimo Dieci 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 Troppo buona Io Sto volando So Sulla spazio È troppo buono Guardate È buonissimo Si Vedi Sì È buonissimo Cacchio Questa Entro stasera Finisce Domani Mattia Non c'è più Ok Io gli do un voto in più Da otto Arriva a nove Dieci No Dieci Ma Dieci Rode Cioè Cento Mille È buonissimo Ora Non so Quando sia piccante Ma non credo Che sia tanto piccante Non c'è scritto Il grado Di piccantezza Ma credo Che sia poco piccante Questo buono È troppo buono Mangiate Sto pezzo Grazie Non mi lo dico No Non lo mangio Troppo Se non mi scucco La bocca È troppo Troppo buono Hai inventato Da lì Stavo leggendo Le cose Non devi Eggi Dobbiamo mangiare Allora Piano La busta C'è la gatta Perché lo apri male Che cacchio Ma lo dobbiamo conservare Oh Sì Madonna Io ne voglio un pezzettino Solo per provare Anche noi Allora Non credo Che sia piccante Tantanto Cioè No Non c'è paura Minchia Un pezzo E qui vale una barretta Guardate Cioè gigante In quadrato vale In quadrato vale una barretta intera Io voglio solo un pezzetto Tieni Allora L'odore L'odore Sembra cioccolato e pasta Questo dovrebbe essere cioccolato fondente Con peperoncino Con peperoncino Cioè Sembra buonissimo Devi buttare Devi mangiare In un boccone Perché Perché sì Al mio tre Uno Due Tre Non è piccante Allora È un po' piccante Si sente dopo Quando è ingoiato Però Non è piccante No È piccante un poco Solo quando Oh Minchia Amale Tieni Beviti un po' di cose No È sopportabile Però Qua Qua È rimasto qui Allora Io ho bevuto questo E mi è passato Quando Quando lo mangi Lo mastichi Non sembra Non sembra Quando lo mastichi Non sembra piccante Non Non sembra piccante Quando lo butti giù Incomincia piano piano A A pizzicare Poi Fa il fuoco Adesso sta passando Quindi duro poco È buono Cioè Dica quel Tocco di peperone Di peperonosità Di zucculatus Capito È buono È buono Mi piace Mi piace Credevo che era molto più piccante E Speravo che era un po' più piccante Però comunque L'effetto lo fa È Piccante al punto giusto Ecco Bene Le cose da provare Sono Fini Le cose da provare Sono finite Spero che il video vi sia piaciuto Se così fosse Lasciate un like Iscrivetevi Se volete un altro video In compagnia Di mia cugina Martina Mi raccomando Fatemelo sapere qui sotto Con il commento Lasciate 20 like No 25 25 like Per un prossimo E diteci anche sotto Nei commenti Se dobbiamo fare un altro Video assaggi Del genere Giusto Allora Il video è finito qua E Nulla Ciao ragazzi Vi mandiamo un grosso bacio Ciao ragazzi Ciao Ciao